infissi legno alluminio con triplo vetro. ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973. ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi gli infissi in legno alluminio sono infissi che si prestano molto bene ad essere utilizzati con triplo vetro perché è un infisso che a livello di telaio di anta sono già molto termici di suo e quindi c'è una proporzione tra l'isolamento del vetro e l'isolamento appunto del telaio dell'anta perimetrale quando però è preferibile usare un infisso legno alluminio con vetro triplo e quando con un vetro doppio questo dipende principalmente dalla tua zona climatica quindi a seconda della zona climatica d'italia ci sono delle zone più calde delle zone più fredde che rendono necessario a livello normativa dei valori termici piuttosto che altri ma soprattutto che ci fanno capire perché un discorso normativa un discorso è la realtà ci fanno capire quando è meglio andare su una soluzione piuttosto che un'altra poi un'altra cosa fondamentale è tutto il resto dell'involucro perché vorrei capire il tipo di muro se è un muro con delle prestazioni degne tra virgolette di un vetro triplo o se è un muro magari che ha delle prestazioni di livello base di livello entry level dove una finestra legno alluminio con vetro triplo magari sarebbe sprecata ecco spesso per farsi consigliare e su queste faccende si ha a che fare con il venditore che ti sta vendendo gli infissi e di certo non ti darà il parere più disinteressato del mondo perché ha un evidente conflitto di interessi e per questo motivo ho creato un servizio di consulenza con sistema misacchi dove ti posso aiutare a trovare la soluzione migliore nel tuo caso specifico lo posso fare quando non sei il mio cliente quando sei in una zona d'italia che non posso servire e quindi dove non avrò nessun interesse a dirti che è meglio una soluzione piuttosto che un'altra dove potrò aiutarti a scegliere anche il preventivo giusto o a farti specificare delle cose che non sono chiari a livello di tecnica o a livello di garanzia e tutto questo lo puoi trovare su www.blogbisacchi.it dove puoi richiedere la tua consulenza personalizzata ma fai presto perché dedico solamente quattro ore alla settimana a questo tipo di lavoro perché tutto il resto della settimana ho bisogno di curare gli interessi della bisacchi ciao e al prossimo video